Ciao lettori elettrici di MammaStyle e benvenuti in un nuovo video! Ci sono tante cose che molto spesso vengono trascurate e che quando ci toccherà finalmente pulirle ci faranno perdere ore e ore. Tra queste le fughe del pavimento e delle piastrelle sono decisamente le più scoccianti. Ma noi di MammaStyle abbiamo un trucchetto davvero semplicissimo che renderà il tutto meno faticoso e che soprattutto non vi farà perdere del tempo prezioso. Sarà una comodità. Vediamo insieme! Tutto quello che dovrete fare sarà versare all'interno di un flaccone spray in parti uguali acqua calda e aceto e mescolate. Ora non vi resta che vaporizzare la miscela ottenuta sulle fughe. Lasciate agire per circa 5 minuti, poi prendete uno spazzolino vecchio da denti e strofinate. infine non dovrete fare altro che risciacquare e poi asciugate con un panno in cotone. Il forte potere sgrassante e igienizzante dell'aceto avrà reso le vostre fughe perfettamente pulite. applicate lo stesso procedimento anche per le fughe del pavimento. provare? come sempre se ti va lascia un like, iscriviti al nostro canale e visita il nostro sito www.mamastyle.it 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 www.mamastyle.it